Corro perché l'atletica mi ha insegnato che non ci sono limiti e quindi per me la corsa è diventata come un moto di vita perché quello che impari all'interno della pista poi ti ritorna tutto fuori. Il mio professore di educazione fisica mi ha detto vieni a provare. Ho provato e appunto mi è piaciuto l'ambiente, mi piaceva divertirmi insieme ai miei compagni, fare amicizia. Ero una ragazza molto timida e l'atletica mi ha aiutata tantissimo. Mi ha proprio plasmata caratterialmente e credo che non sarei ad oggi quella che sono senza questo sport. Il pomeriggio al campo erano sempre attesissimi. Questi allenamenti hanno permesso di far nascere delle amicizie che porto avanti ancora adesso. In allenamento si è tutti insieme e si impara subito il rispetto reciproco e come aiutarsi l'un l'altro durante gli allenamenti. Ho iniziato con delle gare che si fanno a scuola e molto spesso riuscivo anche a battere qualche maschietto a scuola. Riusciva facile correre quindi comunque mi divertivo perché ero la più forte anche dei miei compagni. Ho imparato a rispettare le regole, a rispettare gli altri. Insomma è una palestra di vita secondo me. Fin da piccola mi ha fatto sempre sentire bene soprattutto perché mi faceva capire dove era il mio limite. E non appena raggiungevo comunque l'obiettivo ne avevo subito un altro. Corro perché mi diverto, mi fa sentire forte e mi sento ogni tanto un supereroe. In quel momento è come se tutto si fermasse attorno a me, come se il mio scopo nel mondo fosse quello. Cioè i miei dubbi, le incertezze su quello che devo fare non esistono più. Perché alla fine l'atletica è tutta la mia vita. Rancard Young. Io corro e tu?